Sono agli ordini dello starter i quattro concorrenti partecipanti alla prova di riqualifica per l'inserimento nelle categorie. L'uno è Palla de B con Gennaro Riccio, il due Pitango Jet Peppe Maisto, il tre Perfect Runner LF Vincenzo D'Alessandro Iuno, il quattro Matteo Di Esolo con Giorgio D'Alessandro Senior che sostituisce Giuseppe Citarella. Parte con cautela Matteo Di Esolo, il rete Pitango Jet e il Perfect Runner LF, arretrata anche Palla de B. Alla chiusura delle ali, Perfect Runner LF assume l'iniziativa nei confronti di Pitango Jet che precede Palla de B e Matteo Di Esolo. Si arriva all'imbocco della prima piegata, Perfect Runner completa il lancio in 15 secchi, questo figlio di Abano S e Grave Queen LF, i colori della Roris Horses, e prende subito qualche lunghezza di vantaggio agli avversari. 32, il quarto iniziale, Perfect Runner Pitango Jet, Palla de B, chiude Matteo Di Esolo. Il leader arriva al completamento dei 600, percorsi in 45 e mezzo, è raggiunto adesso da Pitango, seguito nell'azione sia da Palla de B che da Matteo Di Esolo. Pitango attende in seconda posizione, schiena a Perfect Runner che completa gli 800 in 1, 1, 7, 16 e 2 di ultima frazione. All'arco adesso ha mosso Matteo Di Esolo dall'ultima posizione, anticipato da Pitango Jet. Completamento del chilometro in 1, 17 scarsi, 15 e 3 di ultima frazione, Perfect Runner e Pitango Jet alle prese, poi Palla de B alla corda e Matteo Di Esolo all'arco. 3 quarti di miglio, in 1, 31 e 7, 14 e 8 di frazione, Perfect Runner e Pitango alle prese, poi Matteo che ha scavalcato Palla de B. I cavalli entrano in retta d'arrivo con Pitango Jet che è predominante, una frazione in 15 in curva e senza essere sollecitato. Il figlio di Supergill e Fanfara Jet va a concludere chiaramente. Al secondo Perfect Runner precede Matteo e Palla de B. Sul mio cronometro 2, 1, 1, 1, 7 per gli 800 iniziali, 59 scarsi, 58 e 8 a chiudere.